Finalmente ci siamo, l'aggiornamento di oggi è la patch più attesa all'interno di questa settimana Andremo a vedere tutti i nuovi veicoli e la nuova modalità dedicata agli automobili Ma prima se anche tu vuoi il nuovo pass battaglia gratis di questo nuovo sito Mi raccomando iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche Lascia subito like a questo video all'interno del negozio oggetti nella sezione supporto a un creatore Inserisci il mio codice R4SCO Ebbene si sto continuando a fare i regali, ne sto facendo una bordata Ed oggi andremo a regalare non il pass battaglia ma una skin all'interno del negozio oggetti Io ho ancora il signor Black Manta e direi che è proprio il caso di regalarlo Mi raccomando eseguite anche voi i tre passaggi per ottenere un regalo, una skin o il pass battaglia Eccolo qui, tutti i regali sono stati consegnati Buon divertimento con questa nuova skin targata DC Oh mio dio, una bordata di play, è arrivato subito a prendere la chest qua sotto Vediamo che c'è dentro, ok credo che sia un R bianco questa cosa, un R verde, questa cosa che non si può vedere Oh oh, ma lui è fermo? Arrivederci amico mio Kill da vicino vero, kill da vicino vero Meno male, meno un player all'interno di siepi Ma per quale ragione era fermo? Non si sa Io a questo punto inizio a lutare bello tranquillo E come vi ho detto nell'intro del video, amici miei, questo è l'upgrade che abbiamo aspettato di più in questa season E che abbiamo aspettato anche di più, uno di quelli che abbiamo aspettato di più all'interno del gioco di Fortnite Perché, che buono che è sto R Le macchine, la funzionalità di guidare le macchine lo volevamo già dalla season 3 In quanto abbiamo visto sempre queste vetture all'interno della mappa, in ogni città, in ogni luogo di Fortnite Però non ci è mai stata data la possibilità di utilizzarle E quindi di spostarci all'interno della mappa con queste vetture Hanno introdotto qualsiasi mezzo di mobilità Lo skateboard, gli squali in questa season Il cioppa, i motoscavi, insomma di tutto di più Ma mai le automobili Ed oggi finalmente potremo andarle ad utilizzare Come già ci ha spoilerato Fortnite un po' di giorni fa introducendo questi poster Ci saranno quattro vetture, ma non saranno le uniche Infatti avremo a disposizione anche altre vetture Io mi prendo questo cerchino perché è molto molto meglio Grazie all'introduzione di una nuova modalità interamente dedicata alle macchine Sarà la prima volta che vedremo questa modalità E sarà la prima volta che delle vetture Oh mio Dio, pure pompa blu Mamma mia, sto siepi d'agrifoglio quanto va Sarà la prima volta che ci sarà questa modalità a tempo limitato Interamente dedicata alle automobili Infatti non avremo la possibilità di utilizzare le armi Sarà una vera e propria gara Infatti ci sarà lo start delimitato da questo cursore viola Per arrivare a un altro punto, ovviamente al punto di arrivo Sempre delimitato da quest'altro cursore viola Sarà una modalità a tempo limitato Che uscirà sicuramente appena andranno a implementare le macchine Sarà sicuramente una modalità a tempo limitato Davvero molto molto divertente E all'interno di questa modalità Vedremo l'introduzione di altri veicoli Infatti potremmo vedere la polizia La macchina della polizia Il taxi e anche altri veicoli Ovviamente ognuno di questi veicoli Dei veicoli che utilizzeremo in game Avrà dei dati statistici relativi ad ogni veicolo Quindi i camion avranno una loro salute Con un loro boost Oh, questa qui è la falegnameria Occhio, occhio, occhio Mi posso fare un abbordato i materiali Me l'ero scordata all'interno della mappa E invece grazie a questa riduzione delle acque Che stiamo vedendo settimanalmente Posso lutarmi questi bei pallet Una cosa importante correlata alla riduzione dell'acqua Che all'inizio non vi preoccupate se non trovate tantissime vetture Perché ci saranno solamente 2-3 per ogni tipo Quindi non ci saranno tantissimi veicoli all'inizio Ma poi man mano che ci saranno Le aggiornamenti del livello dell'acqua Il prossimo è fixato per questo venerdì Usciranno sempre più automobili Perché diciamo Fortnite è come se intende che i veicoli sono sotto l'acqua E quindi man mano che l'acqua uscirà Ci saranno sempre più strada da guidare E ci saranno sempre più veicoli disponibili Fatemi sapere qua sotto nei commenti Se siete in hype per questo aggiornamento Intanto abbiamo raggiunto 999 di legno Dobbiamo andare assolutamente in safe Io sono in stra hype Lo sapete lo stavo aspettando anch'io da un bel po' E ora mentre voi state guardando questo video Sicuramente sono già in live Quindi finite di guardarvi il video Perché ci sono altri topic davvero molto molto importanti E poi se volete passate in live Almeno andiamo a provare insieme queste nuove vetture E andiamo a provare insieme la nuova modalità dedicata alle automobili Una cosa che mi chiedete in tantissimi è come faccio ad utilizzare le vetture A me viene un po' da sorridere perché sarà tale e quale A come utilizzare un qualsiasi altro mezzo per la mobilità Quindi un cioppa o un motoscafo Basta che vi avvicinate alla macchina Andate a digitare per me quadrato Il mio pulsante per ricercare all'interno del gioco di Fortnite E vi sarà data la possibilità di salire all'interno delle macchine Io non credo che tutte le macchine che abbiamo ora in game Saranno disponibili per l'utilizzo Anzi penso che magari molte le andranno a rimuovere Dando semplicemente più spazio a tutte le nuove macchine Oh mi hanno cecchinato e non so da dove i vermiciattoli Siamo in 17 Il nostro obiettivo è assuramente arrivare in top 10 Ma da dove mi ha cecchinato questo? Oh mio dio Per me è nell'acqua Ma è un pazzo se mi cecchina nell'acqua E tra l'altro non vedo teste galleggianti Facciamo finta di niente Ci muoviamo così saltellante Sicuramente lui ora riattaccherà Non avrebbe eccolo infatti Ma da dove mi sta cecchino? Ma da dove mi cecchino? Regà Ma mi sta sparando Ma questo è un matto Cioè ma da dove mi sta sparando? Ma è un bot Non è un bot Non lo so che cos'è ma ci sta prendendo una cifra sto tizio Io comunque Vediamo un po' se è un bot No gli sparo qua No non è assolutamente un bot ha buildato Ha il cervello da bot sto player regà A meno che non abbia una jump Cosa che credo proprio Infatti ce la ce la ce la Attenzione potrebbe essere un fuori classe invece Io non mi sto proteggendo dietro Se mi beccano è la mia fine 22 pulito Oh mamma mia Io lo push assolutamente anche perché non posso rischiarmela Lui sicuramente è il mago del cecchino Sta provando a cecchinarmi 18.000 volte Ok lui mi spotta E' bravo è molto molto bravo perché con il cecchino Oh 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 mi ha dato pure fuoco maledizione E' molto bravo perché con il cecchino lo spot è fondamentale Player bravo No vabbè regà è un animale Bravissimo complimenti GG GG amico mio Oh buono 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 Corri 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 C'è il giac che ho fatto Mamma mia regà che siamo riusciti a fare Cosa siamo riusciti a fare Attenzione noi player life Noi la nostra top l'abbiamo presa Lui era andato alla fortiglia Ecco perché era così dietro Comunque è stato un pazzo a spararmi Io faccio una cosa Il chug jug me lo porto Non si sa mai Non so se ce la facciamo però Devo accendere assolutamente questo gunfire Almeno il mio chug jug si ricarica E siamo molto più tranquilli 7 alive di già Oh mio dio Dai dai chug jug sbrigati a ricaricarti Anche perché abbiamo solamente un minuto Attenzione abbiamo il chug jug pronto Però non me lo faccio 5 player alive Ma regà ma che cos'è questo game Continuando a parlare dei topic di questo nuovo aggiornamento Sarà possibile finalmente aprire i drop all'autorità A me è capitato proprio personalmente di non poterli aprire O meglio c'era un bug Arrivava il cursore fino alla fine Però non riuscivo ad aprire questi airdrop Quindi con questo nuovo aggiornamento Sicuramente potremmo riaprire finalmente gli airdrop E attenzione abbiamo due airdrop Proprio qua davanti a noi regà E io me li vado a farsi due airdrop Vediamo che cosa abbiamo Oh bello bello sto scarre Ci prendiamo pure quest'altro airdrop Regà 4 player alive Ma è una mia sensazione O i game bono questo Durano molto molto di meno in questo periodo Sarà perché la gente I player stanno tutti in vacanza E quindi Oh 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 mi hanno sparato Attenzione Dobbiamo andare in safe nel frattempo comunque Oh uno ha giampato Eccolo lì Proviamo la cecchina da sogno Oh brivido E mentre stiamo cingendo la safe Vi parlo dell'ultimo topic di oggi Ovvero è finalmente disponibile Meglio ancora non è disponibile Però sappiamo come partecipare al torneo galaxy Sarà un torneo esclusivo Per chi ha un dispositivo android E si giocherà proprio sullo smartphone Quindi io ho già acquistato In realtà già l'avevo acquistato prima Non in previsione di questo torneo Ma per fare un mio video personale Questo dispositivo qui Che non è altro che un dispositivo Che si aggancia al proprio cellulare E ti permette di giocare tramite Con il joystick Al proprio telefonino Quindi sarà davvero ottimo Per fare questo torneo Attenzione ci stanno sparando Se non sapete Se volete sapere Come ottenere la skin galaxy C'è un video Che vi lascio qua sotto In descrizione Ok lui è molto cattivo Ah regà ma siamo rimasti in tre Ma che game è stato Bonus top 90 Siamo rimasti No è uno versus uno No 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 Attenzione perché quello è molto cattivo Ha pushato tutti quanti È giampato Oh mio dio Non me l'ha raccorto Regà è uno di vita Devo assolutamente dargli fastidio Eh si sta scildando come può Sicuramente il vermiciattolo Io vado su Eccolo Buono No è sua Oh No Guarda quanta vita aveva Era Tommygan versus P90 Eh la Tommygan è andata Non a caso È un oggetto mitico Peccato Amici miei è un game assurdo Non mi sono accorto proprio I player scendevano con una rapidità incredibile Siamo rimasti subito in dieci Per poi arrivare in tre E purtroppo perdere questo game Però noi la nostra top 10 Ce la siamo portata a casa Peccato per questo Uno versus uno Tommygan P90 Eh va sempre la Tommygan Che dobbiamo fare Mi raccomando Ora correte in live Già sicuramente la trovate sul canale Quindi chiudete il video Entrate in live Scrivetemi all'interno della chat Vengo dal video Almeno vi saluto Una a uno E andiamoci a gustare Questa nuova patch 13.30 Che sarà sicuramente splendida Mi raccomando I tre passaggi I tre passaggi Non i sei passaggi Per ottenere una skin O il pass battaglia gratis Quindi mi raccomando Iscrivetevi al canale E attivate la campagna Le notifiche Subito like a questo video Se ancora non l'avete lasciato E il supporto a un cradore All'interno del negozio oggetti È fondamentale Quindi inserisci l'ora R4 All'interno del supporto a un cradore Noi ci vediamo tra pochissimo In live Oppure vi lascio anche Sullo schermo due video Quindi scegliete voi Cosa fare Se passare in live O vedere questi due Nuovi video A prestissimo E L'estra Cosa fare in live Cosa fare in live